Lungo confronto questa mattina nel chiuso dallo sfogliatoio tra il DS Dalli Carri e il tecnico Alberto Colombo, unitamente al suo staff, analizzate tutte le criticità, in particolare dell'ultimo periodo, a dire il vero delusioni e amarezze non si contano più, del Pescara solido e aggressivo non è rimasto nulla, i numeri lo certificano in modo inequivocabile, appena 13 punti nelle ultime 14 gare, cammino da zona retrocessione, in questo lasso di tempo hanno fatto meglio solo Giuliano Turris e Andrea, Dalli Carri si aspetta una reazione temperamentale, soprattutto una prova convincente, solo così sabato prossimo Cerignola Colombo salverebbe la panchina senza naturalmente trascurare il risultato. Insomma serve un'inversione di rotta al Monterisi, il tecnico Biecazzurro dovrebbe riproporre il 4-2-3-1 con Mora nel cuore del reparto nevralgico al fianco di Giabua, in attacco certi del posto Merola, Rafia e Vergani, per l'ultima maglia al momento Cuppone sembra in netto vantaggio su Delle Monache e Colai, in difesa Milani favorito su Crescenzi, dubbio brosco in grosso, tre pali naturalmente sommariva, il luogo dello squalificato Pizzari, nel Cerignola rientra Ligi, squalificato Langella, pazienza, confermerà il 3-5-2 davanti il tandem Malcore d'Andrea.